Prendo lo strumento matita o linea, trovo la metà precisa del mio oggetto e vado tenendomi perpendicolare all'asse rosso. Prendo precisamente il vertice, mi muovo perpendicolare all'asse verde, vado sul vertice, mi muovo sullo stesso asse in cui mi sono mosso rosso e poi mi sposto su quello verde. Ho tracciato una linea centrale ed ho diviso a metà il solido. Seleziono tutto con CTRL A, tasto destro, interseca faccia con la selezione. Vado a eliminare quelle che sono le linee in eccesso, vado a eliminare anche quelle che sono le facce che tanto non servirebbero mai. Ora abbiamo creato una sorta di piano che divide il nostro solido. Non ci resta che selezionare attraverso lo strumento Seleziona, come già abbiamo visto, tutte quelle parti che fanno parte della nostra zona alta, della parte che vogliamo sezionare. Fatto questo, CTRL X taglio quello che ho selezionato, CTRL V incollo quello che ho selezionato. Rimangono sempre linee, punti e vertici perché per comodità non li seleziono per far prima, preferisco eliminarli dopo. Metto in pratica quello che ho appreso la scorsa volta, utilizzo la selezione, ma selezionando con una finestra. Vado a selezionare tutti quegli oggetti che sporgono. Molto lo elimino in questo modo e di conseguenza risparmio molto tempo. Mi tocca eliminare solo quelle che sono le linee attaccate ai vertici che non voglio eliminare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.